Buongiorno, io sono Luca Morari, amministratore delegato di Di Vita, Di Vita è il distributore italiano di Ricola e siamo qui oggi appunto per parlare della consapevolezza della sostenibilità nella nostra città di Milano e nell'industria in generale. Io lavoro da 12 anni per Ricola e mi ricordo che all'inizio della nostra storia quando si parlava della filiera, del fatto che le nostre erbe erano biologiche, del fatto che c'era una coltivazione esclusivamente nelle Alpi Svizzere, la gente sorrideva e diceva vabbè ma stiamo parlando esclusivamente di caramelle non stiamo parlando di un prodotto più complesso. In realtà oggigiorno l'attenzione a queste tematiche è arrivata anche nel nostro mercato e questo ci ha permesso di conquistare una posizione importante perché siamo stati i primi a fare questo discorso. Stranamente, al contrario di quello che succede solitamente, sono i leader che ci inseguono, ci copiano e cercano di prendere beneficio dalla nostra posizione ma il nostro primato nelle erbe è da sempre conosciuto anche l'ultima iniziativa che abbiamo fatto delle erbe ricola che danzano, che potete trovare sul nostro sito, lo dimostra.